Grifone, cuore di bue, il cuore di bue tradizionale. Grifone, il pomodoro cuore di bue tradizionale, nasce integrando le caratteristiche originarie della pregiata tipologia cuore di bue, con le doti di resistenza, vigoria e resa richieste dalla produzione e dal mercato. Grifone è in grado di soddisfare anche i gusti dei consumatori più esigenti nel rispetto della tradizione. L'ottima capacità di adattamento di Grifone alle differenti condizioni pedoclimatiche e la conseguente possibilità di coltivarlo in tutta Italia rappresenta una delle sue caratteristiche distintive più apprezzate dai produttori.